Ciao, sono Alice! Come ogni giovedì è uscita l'anteprima Lidl. Vediamola subito! Auguri, auguri, auguri! Da Alice e da tutto lo staff vi trova a volantini.it Se vuoi scoprire tutti i segreti dei volantini e fare i tuoi acquisti in modo ancora più consapevole visita anche il mio blog su Trova Volantini Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su TrovaVolantini.it 80.000 iscritti raggiunti! Grazie di cuore! Ora con il vostro sostegno puntiamo dritti ai 100.000 80.000 volte grazie! Che ne pensi di queste offerte? Scrivili nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori. E tu? In quale negozio vai? Scrivili nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori.it Grazie a tutti! Grazie a tutti! Su TrovaVolantini.it Le offerte della tua città a portata di un click! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie per avermi seguito fino alla fine del video. Se avete domande o commenti non esitate a scrivermi qui sotto. Ci vediamo al prossimo video su Trova Volantini. Ciao. 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 Ciao.